Hubble e Webb, un gioco di squadra. L'area che vedete in questa visualizzazione è una piccola parte dell'Extended Growth Strip, una regione osservata originalmente dal telescopio spaziale Hubble tra il 2004 e il 2005. Delle circa 100.000 galassie che contiene, ne vediamo qui circa 5.000. Fanno parte tutte del programma osservativo CHEERS, che sta per Cosmic Evolution Early Release Science, una survey del James Webb Space Telescope. E mentre la fotocamera si addentra nell'universo lontano, ogni secondo equivale a viaggiare per 200 milioni di anni luce fra le galassie e ci fa vedere quindi 200 milioni di anni più in là nel passato. L'aspetto delle galassie cambia dal momento che gli oggetti più distanti popolano un universo più giovane, fino ad arrivare al punto più lontano, la galassia di Macy, che si è formata solo 390 milioni di anni dopo il Big Bang, circa 13,4 miliardi di anni fa. Stiamo vedendo non solo una delle prime e distantissime galassie trovate da Webb, ma anche un esempio di galassia primordiale che prima di Webb era impossibile vedere. Gli strumenti del telescopio spaziale dorato sono infatti in grado di catturare la luce di oggetti come questo, che si è spostata verso lunghezze d'onda dell'infrarosso dall'espansione dell'universo. Un viaggio, quello che stiamo vedendo nella CHEERS Survey, che mostra sì quanto lontano possa osservare Webb, ma anche quanto esso si basi sui risultati ottenuti da Hubble. Da un anno a questa parte sono molti gli esempi in cui l'unione fra i due ha permesso ai ricercatori di determinare quali galassie erano veramente lontane e quali erano vicine, ma così polverose da nascondere tutta la luce visibile. Con Macy stiamo davvero vedendo i primordi dell'universo. Grazie a tutti.